Benvenuto intanto, la tua giornata sta per iniziare, forse, se Beppe arriva. La prima domanda di oggi è, sei pronto a questa competizione? Certo. Pensi di vincere? Certo. Dai, scorsi. Ragazzi, pensa di vincere. Non male. C'è anche i miei fratelli di là, io ti spongo, io vinco. I miei fratelli di là sono cari. E quindi niente, io non parlavo di stasera, la competizione è l'altra competizione, intendevo. Quella è il prossimo sabato? Esatto. E sono pronto, sì. Sicuro? Sì, dai, sì, sì. Sei sicuro di vincere? C'è stato lì? Sì. C'ha dei pensieri, ragazzi. Non è come andare in go-kart. La prima cosa da fare stasera è indossare la maglietta ufficiale dell'addio a cerimano. Prima la voglio vedere. Signore e signori, non c'è limite al peggio. Problem? Solve. Ah, io le pulche. Dove arrivo a questa? Eccoci. Come si senti adesso? Uguale a prima. Bene, ok, direi che la giornata, la serata può avere inizio. Sì, l'intervista post-gara. Sì, l'intervista post-gara. A caldo. Sì, l'intervista post-gara. A caldo, sì. Guarda qui, vedo qual è il calico. È problema. C'è anche il bigliato qui, eh? Ah, non c'è un mare o c'è un mare? c'è un mare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.